Allora, per rompere le regole, secondo me la cosa principale è conoscere le regole che si vuole rompere. Nella mia conferenza ho proprio parlato di questo, bisogna riuscire ad avere una distanza critica dalle regole in cui si abita per poter prima di tutto cambiare le abitudini di pensiero, per poter cambiare poi la realtà che ci circonda. Quindi per me rompere le regole significa innanzitutto rompere gli schemi mentali a cui siamo abituati per poter guardare le cose in un modo diverso, per poterle vedere da punti di vista diversi.